The New Stories. La tua informazione libera. Per me, tu sei questo sorriso. Ha scritto nel post. Per sempre. Tra le storie, invece, il ritorno da Froburg senza di lui. Lascio la Germania così, con il sole perché tu continui a splendere, e con la pioggia perché anche il cielo ti piange. Si legge in un video girato in macchina prima di raggiungere l'aeroporto. E ancora, il mio cuore resta qui con te. Spero un giorno faccia meno male. L'ultima storia è dall'aereo, prima di rientrare in Italia. Ci tenevo a ringraziare tutti di cuore per i messaggi e per la vicinanza. È stata una giornata lunga e dolorosa. Cercherò di rispondere piano piano nei prossimi giorni. In queste ore sono arrivate anche le parole del padre Maurizio, che ha voluto ricordare il figlio con una tenera foto insieme e delle bellissime parole. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.